Wow... Preparatevi. Dove sono finita? LOL Surprise vi accompagnerà in una nuova fantastica avventura. Tu sei? Tu sei? Fantastica e non finiremo mai questo film se non corriamo subito sul set. Aspetta, cosa? Io sto girando un film. Andrai alla grande. Ricca di emozioni. Oh, Debbie! Occhiali da sole. D'accordo, tesoro. Paola. Questo era perfetto. Mi sono esercitata. Insieme al mio tronco. Fantascienza. È il momento di fare rotta verso il futuro. Reazione. Non la rivedrete mai. Andiamo, partner. Guarda laggiù. Sembra una tosta. È la sorpresa. Guardi. LOL Surprise più cool di sempre. Sei pronta? Mettiamocela tutta, Royal B. Datemi la luce. Camera. Fatemi l'azione. L'azione! Woohoo! LOL Surprise. The Movie. Solo su Netflix. Che cos'è successo?